Nuovo attacco dell'ex presidente della regione, Ugo Cappellacci, ora coordinatore di Forza Italia, alla Giunta Pigliaro in materia di entrate fiscali. Con replica dell'assessore al bilancio Pace e dell'indipendentista Paolo Maninchedda è uno scenario a cui ci si dovrà abituare per la radicale differenza di vedute tra i due schieramenti. L'argomento che ha acceso la discussione riguarda le accise su luce gas che secondo le nuove disposizioni regionali saranno riscosse direttamente in Sardegna per i 9 decimi con un unico modello F24 che prevede il trattenimento nelle casse regionali della quota aspettante all'isola. Ma per Cappellacci tutto il progetto in corso per l'inversione del gettito fiscale che andrà avanti tramite la istituita gentia sarda delle entrate è una bufala, un'istituzione completamente inutile che non porterà alcun beneficio ai sardi, anzi, proprio le accise sull'F24 dimostrano che il centro-sinistra ha fatto nuovi regali alla gestione erariale dello Stato. Una ridicola trattativa, la definisce l'ex governatore, condotta da Pigliaro e dal suo assessore Avatar con la bandiera bianca bene in vista e con la deposizione di tutte le armi, ovvero i ricorsi fatti da noi. L'ultima foglia di fico sovranista è caduta, afferma ancora Cappellacci in un comunicato. Raffaele Paci risponde a tono e accusa l'avversario di reiterate menzogne sull'operato della giunta. Non sono le accise, ma già da luglio tasse come l'IRPF e l'IRAP saranno riscosse direttamente dalla Sardegna, afferma Paci, mentre Cappellacci parla senza sapere e senza neanche studiarsi gli argomenti, strumentalizzando i risultati ottenuti da questa giunta per nascondere i suoi fallimenti. Nel dibattito è intervenuto anche il leader del Partito dei Sardi e componente della giunta, Paolo Malinchedda, che difende a spada tratta l'istituzione dell'agenzia sarda. È finito il viaggio a Roma dei nostri soldi che comportava che una parte della nostra ricchezza rimanesse impigliata nelle reti saccheggiatrici dello Stato, ha fermato l'assessore.